Sapete che in queste ore c'era una valutazione in corso sulla possibilità di chiudere o meno le scuole. Per il Governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato anche il parere del Comitato Tecnico Scientifico e abbiamo deciso prudenzialmente, visto che la situazione epidemiologica cambia velocemente, di sospendere le attività didattiche al di fuori della zona rossa fino al 15 di marzo.